Ma cosa vendere su Amazon nel 2021? Parleremo infatti di prodotti che potrai vendere su Amazon nel 2021 perché? Perché ci sono tante persone che hanno capito, che vogliono vendere su Amazon, hanno capito che è il business migliore del 2021 e dei prossimi anni, però quando arrivano al prodotto hanno degli occhi terrorizzati e dicono ma cosa devo vendere, non lo so cosa vendere! E' capitato magari anche a te? Allora partiamo, oggi faremo una distinzione, sia che tu parta da zero e sia che tu abbia già dei prodotti, magari sei un negoziante, artigiano, imprenditore quindi affronteremo entrambe le situazioni. Partiamo con la prima situazione, parti da zero, cosa devi fare? Innanzitutto ti consiglio di partire con la rivendita, perché? Perché quando tu rivendi dei prodotti di marchi già esistenti, di aziende già esistenti, ovviamente magari ti dovrai contentare di una marginalità più bassa, quindi guadagnare un pochino di meno. Però nello stesso tempo questo ti permette di partire con meno capitale, quindi non parti subito in quinta importando dalla Cina, facendo grossi investimenti, congelando magari tanti soldi, tanto capitale in un unico progetto, ma parti gradualmente, vedi quello che vende di più, vedi quello che funziona di più e poi man mano riesci ad aprire il portafoglio e ad investire sempre di più. Quindi partire con la rivendita ti permette di avere questa flessibilità, ma oltre a questo ti permette anche di conoscere il canale di Amazon, quindi di permettere di conoscere come funziona la macchina di Amazon, il meccanismo, l'algoritmo, e di prendere sempre più familiarità, di farti un po' i muscoli, per poi affrontare cose più complesse e anche più profittevoli. Andiamo avanti con alcuni esempi di categorie di prodotti in cui potresti entrare e potresti iniziare. Quindi per esempio una delle categorie su cui potresti iniziare ovviamente la parte casa e cucina, ok? Quindi quali sono gli aspetti positivi? Gli aspetti positivi di queste categorie sono che per esempio non hai tanti marchi forti, perché quando tu entri in una categoria dove c'è un marchio forte, quindi dove c'è un marchio predominante che magari si prende il 70, 80, 90% delle vendite, ovviamente fai fatica a scavalcare questo marchio. Nel settore casa e cucina non ci sono così tanti marchi forti, quindi se io per esempio ti dico qual è il marchio numero uno per i mestoli da cucina? Boh, nel senso che è difficile dire un marchio, invece dico qual è la bevanda energetica più conosciuta al mondo? Tu dici la Red Bull, ok? O qual è il marchio di auto tedesche più diffuso? Ti viene in mente magari Audi, Mercedes, BMW e così via. Quindi ci sono certe categorie dove c'è un marchio dominante, evita quelle categorie all'inizio, perché faresti fatica a scavalcare questi marchi. Un po' un contro di questa categoria potrebbe essere che devi trovarti delle nicchie dove magari puoi o essere creativo, quindi diversificare il prodotto rispetto alla concorrenza, o magari trovarti delle nicchie dove magari il made in Italy può fare la differenza, perché ovviamente c'è tanta, la maggior parte di questi prodotti magari vengono fatti in Cina e quindi fai fatica a diversificare, ok? Salute e cura della persona, quali sono alcuni aspetti positivi, negativi di questa categoria? Molto interessante come categoria, volumi interessanti come per casa e cucina, prodotto ciclico, quindi una volta che tu vendi una crema di avviso piuttosto che qualsiasi altro prodotto, una crema a mani o una crema alla bava di lumaca o altre cose, qualunque cosa che tu vuoi, diciamo che l'aspetto positivo è che è un prodotto ciclico, quindi se il cliente si affeziona, se gli piace la qualità, se gli piace il prodotto che hai fatto, può ricomprare il tuo prodotto e quindi questa cosa crea una ciclicità e una volta acquisito il cliente magari riesce a fidelizzarlo in questo senso e fai delle vendite ripetitive. Gli aspetti magari meno positivi possono essere che ovviamente trattandosi di prodotti più delicati che vanno magari a contatto con la pelle o alcuni magari vengono ingeriti perché se parliamo di integratori o altre cose ovviamente ci vogliono certificazioni, ci vogliono magari certi aspetti che creano delle barriere all'ingresso un po' più alte. Però chiedo a te, c'è la barriera all'ingresso, è sempre una cosa negativa? Secondo me no, perché la barriera all'ingresso, se tu hai un po' di capitali, hai magari un po' di esperienza, hai un po' di aggancia all'interno di questo settore, potrebbero crearti un vantaggio competitivo e magari riuscire a mantenere una marginalità più alta e a tenere i concorrenti fuori. Quindi da questo lato qua è positivo. Il fai da te, il fai da te per esempio è un'altra categoria che potresti pensare dove iniziare. Perché? Perché ovviamente è una categoria dove ci sono tantissimi prodotti, dove comunque potresti crearti un tuo private label. Anche qui per molte categorie non ci sono dei marchi dominanti online che appena pensi a quella cosa lì ti viene in mente subito un marchio. Quindi c'è tanto spazio in nicchie o sotto nicchie anche con la categoria fai da te. L'alimentare, l'alimentare per esempio a volte è un po' sottovalutato perché dicono che eh ma c'è un pochi volumi ed è vero eh nel senso rispetto alle altre categorie ci sono meno volumi però nello stesso tempo magari ci sono più opportunità perché al di là di avere anche lì un prodotto ciclico ok? Sull'alimentare comunque è un prodotto dove puoi fare la differenza con il made in Italy quindi puoi venderlo sia in Italia ma soprattutto puoi venderlo anche all'estero e questo è un vantaggio non da poco. Quindi non fai più concorrenza magari con la Cina direttamente come su altre categorie ma puoi crearti un vantaggio competitivo perché magari quel fornitore che hai sotto casa un venditore della Cina o dagli Stati Uniti farebbe fatica a trovarlo e tu puoi personalizzare magari o decidere di rivendere i suoi prodotti inizialmente o addirittura crearti direttamente un private label ovviamente aspetti a cui stare attenti quali sono anche qua certificazione prodotti delicati ok? Il trasporto la conservazione quindi qua si parla spesso di magari una conservazione a breve termine quindi devi iniziare con prodotti magari più secchi che possono essere conservati più a medio o lungo termine quindi avere anche un tempo di conservazione un po' più ampio e poi ovviamente tutti i permessi appunto che ci vogliono per vendere prodotti alimentari elettronica e abbigliamento perché l'ho messa qua? Non perché non siano categorie interessanti anzi su Amazon sono tra le categorie comunque più vendute ci sono dei volumi pazzeschi su queste categorie l'ho messo qui perché diciamo che sia perché c'è tantissima concorrenza in queste categorie sia perché magari c'è più un tasso di resi più alto tu sai che la politica di Amazon per i resi è molto flessibile per il cliente è più rigida per il venditore per cui elettronica e abbigliamento volumi altissimi interessante devi mettere in conto i resi potenziali che ci sono quindi devi vedere come i resi influenzano la tua marginalità ma se tu invece sei già un negoziante imprenditore artigiano e dici ok ma io non sto partendo da zero cioè piano io non parto da zero cioè io ho già dei prodotti vorrei capire se posso vendere i miei prodotti su Amazon giusto? ok allora in quel caso cosa si fa? noi partiamo sempre da un'analisi di fattibilità quindi facciamo una consulenza per esempio ai nostri clienti che ci chiamano e diciamo guarda partiamo dall'analisi di fattibilità capiamo se questi prodotti innanzitutto ha senso venderli su Amazon quindi valutiamo magari volumi di ricerca vediamo che volumi di ricerca ci sono valutiamo i potenziali fatturati che ci sono su Amazon quindi quanto fatturano i tuoi concorrenti in quella determinata nicchia ma una volta che abbiamo capito il potenziale andiamo a vedere anche la marginalità quindi considerando tutti i costi di Amazon che marginalità ci resta quanti soldi ci vogliono per poi lanciare o promuovere il prodotto quindi anche gli investimenti il capitale iniziale che ci vuole quindi capiamo se c'è praticamente un semaforo verde arancione o rosso per vendere i tuoi prodotti su Amazon ok una volta che abbiamo capito la fattibilità qual è il secondo passo da fare allora lì sì lì il consiglio è di partire già con i prodotti che hai perché ti permette di conoscere il canale ti permette di fare le prime vendite di capire i primi pro e contro dei tuoi prodotti quindi se tu hai già un negozio inutile andare a partire da prodotti completamente diversi sfruttiamo l'esperienza che hai già accumulato sfruttiamo i contatti che hai già con i fornitori sfruttiamo già quello che stai facendo nel mercato tradizionale e portiamolo online se non è possibile non lo facciamo se è possibile partiamo da quello poi però la tua domanda potrebbe essere ma allora mi fermo lì con la cosa no non ti fermi lì perché una volta che siamo partiti con i tuoi prodotti se vediamo che poi possiamo allargarci aggiungere altri prodotti aggiungiamo e a quel punto tramite i software tramite le analisi capiamo quali sono i prodotti che vanno di più su Amazon e magari ci spostiamo anche in diverse categorie o rimaniamo nella tua categoria però concentrandoci sui prodotti ad altro profitto concentrandoci sui prodotti più interessanti quindi questa è la cosa che normalmente facciamo con i clienti quindi come hai visto sia che tu parti da zero sia che tu abbia già dei prodotti la cosa che ti consiglio puoi anche di seguire il nostro webinar che trovi comunque in descrizione dove possiamo approfondire questi aspetti e puoi capire anche come possiamo aiutarti a trovare prodotti profitevoli sia se parti da zero e come possiamo aiutarti se sei già un imprenditore e ha già dei prodotti quindi fammi sapere se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale non dimenticarti commenta sotto e ti consiglio di seguire il webinar per andare ad approfondire tutti questi aspetti che abbiamo visto ciao e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao